Pagliari, attento alla Juventus per lo scudetto, giuntoli è un top player. Benvenuti nel canale. E se ami la Juventus e vuoi rimanere ben informato sulla Juve, iscriviti al canale e clicca il campanello in modo da non perderti nulla. L'agente Silvio Pagliari ha parlato con il resto del Pag e ha analizzato il mercato delle squadre finora, la squadra che si è mossa meglio? Milano, ha fatto delle scelte sagge, anche se non avevo mai capito la rimozione di Paolo Maldini e Ricky Massara prima. Ma per lo scudetto punto su Napoli, Inter è attenzione alla Juventus. Pagliari aggiunge alla nuova Juventus nata nelle ultime settimane, i bianconeri non avranno coppe europee e il nuovo rev cristiano giuntoli non è solo un mio amico, ma è un vero top player. Ciao! 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 Grazie a tutti.